buongiorno bimbi da questo luogo ameno ameno è un luogo idilliaco meraviglioso bucolico che paroloni la clara o già io galapagno non si scherza madonna di campiglio come noi siamo qui per la chiusura di una stagione sci alpinistica sì allora di solito non la chiudiamo fine giugno però in programma altro perché diciamo sia sia noi che voi ci siamo ronti un po le scatole di scatole sci alpinismo non mi rompere scatole solo che adesso stiamo aprendo nuovi orizzonti sta partendo un nuovo viaggio perciò dobbiamo prepararci per un nuovo viaggio tutto qui 1680 qua secondo me siamo scesi in mille 6 perciò domani dobbiamo arrivare a cacciati la cena il puzzone di moena abbiamo preso e l'ispesa e anche il salame di capriolo questa qui la parte sana del pasto e questo non può mancare quella cena fu sciaguratamente causa di un pessimo stato di forma nella salita sci alpinistica perché la dieta a cui si erano sottoposti dopo i bagordi norvecesi aveva limitato la capacità dei bimbi di gestire gli eccessi di alcol e dolciumi e 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso dobbiamo arrivare là al passo. Grazie a tutti. Oggi ci fermiamo qua. Ma siamo già arrivati fino oltre quello che si era previsto. Ah, meno male. Perciò non è che stiamo rinunciando alla vetta. No, non era in programma. A quel punto si prospettava tutta discesa. Ma invece dietro una curva si presentò un'amara verità. E non è finita. Purtroppo dobbiamo rimettere le perli per tornare. Non è finita. Perché sulla stradina che scende non c'è neve. ormai stiamo diventando ridicoli. Con... Come ridicoli. Non è possibile che siamo sempre in questo stato... No, io sto bene. Noi! Eh no dai! Qualcuno abbiamo lasciato dietro, qualcuno abbiamo recuperato, su via. Eh anche a lei che il sole, il sole fa caldo. Però farlo meno ha reso pappa la neve e si fa una bella discesa. Altrimenti da quel misto, misto crosta dura, molle, che non sciavi bene. Invece adesso, bello. Cioè sono... Io non ce la faccio più. Ah la clara ce la fa più, la clara non ce la fa più. Tieni duro che adesso è solo discesa. Sì. Però che bello la primavera, sci alpinismo, quando si può spalancare tutto, sparpagliare tutto in giro al sole, anche se non è il massimo del decoro, ma poi mettiamo tutto a posto. Possiamo annunciare che oggi finisce la stagione di sci alpinismo. Sì. La riprenderemo... Eh l'anno prossimo. ...forsima stagione, l'anno prossimo. Come al solito. No, non l'anno prossimo, perché l'anno di solito si inizia prima dell'anno. Ah vero. Prossima stagione. Eh sì. Perciò che dire bimbi? Vi salutiamo. Vi salutiamo, facciamo vedere il pranzo. No. Ciao bimbi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.